Recensito in giardino Buongiorno a tutti e benvenuti a Recensito in giardino oggi siamo qua a presentarvi questo modello di svettatoio elettrico della ditta Arkman Helium Plus attenzione, questo svettatoio di cui vi stiamo parlando è un prodotto completamente italiano Made in Italy al 100% è composto al 100% da prodotti italiani quindi una cosa interessantissima una premessa che vi voglio fare ragazzi oggi siamo qua, siamo in primi di settembre stiamo facendo questa dimostrazione di questo attrezzo di potatura anche se non nel periodo ma lo facciamo per prepararvi alla prossima potatura che avverrà nel momento di raccolta o quando ritenete più opportuno voi parliamo del primo svettatoio telescopico ripeto Made in Italy al 100% professionale a batteria batteria elettrica con testa orientabile caratteristiche di questo svettatoio interessantissime leggero, leggerissimo non leggero è bilanciato grazie al motore che è posizionato nella parte inferiore l'impugnatura ergonomica tagli precisissimi azionamento rapido con grilletto e sicura un particolare che mi ha colpito che questo svettatoio col peso che ha pesa un chilo in più solamente un chilo in più dello svettatoio manuale quindi pensate un po' la comodità parliamo della batteria che è Ioni Litio che è questa che ha un peso poco più di 2 kg un peso risorio una tensione di 37 volt capacità 8,7 ampere caratteristica fantastica di questa batteria è che ha un'autonomia di 6 bar 8 ore quindi possiamo fare la giornata di potatura e abbiamo un tempo di ricarica che è bassissimo che è di circa 3,5 ore quindi possiamo ricarla benissimo anche a metà giornata per poter fare le potature di nuovo lo zaino che vi ho fatto vedere è uno zaino leggerissimo meraviglioso composto da cintura e cinghe regolabili abbiamo due lunghezze diverse di svettatoio abbiamo quello in questo caso che vi stiamo facendo vedere che è quello più alto che pesa 2,65 e va ad un'altezza minima di 2,56 e raggiunge i 4,15 un'altezza notevole abbiamo il modello più piccolo che pesa 2,25 kg e raggiunge un'altezza da 191 massimo di 3 metri soffermiamoci sulla testa di taglio di questo svettatoio una testa di taglio regolabile vi faccio vedere l'angolo di taglio regolabile da 60 a 110 gradi la lama in acciaio al carbonio tefronato straordinaria poi abbiamo stampato in nylon fibra di carbonio materiale resistentissimo quindi non abbiamo badato attrezzo veramente strutturato e fatto con materiali ottimi grandissimo particolare di questo attrezzo è il gancio che serve per togliere i rami che abbiamo appena tagliato per non lasciarli sulla pianta o quelli incastrati io poi che ho 35 anni che faccio questo lavoro di potatura cosa lo uso a fare? lo uso poi per appendere allo svettatoio per non lasciarlo in terra per non lasciarlo in giro per poi col pericolo che mi cade eccetera eccetera abbiamo un pulsante della pinzatura che è quello che serve per afferrare il rametto e poi toglierlo in caso di necessità se non vogliamo andare poi a recuperare i rami dopo sulla pianta quindi un altro particolare comodo per noi potatori l'impugnatura ergonomica attenzione guaina in gomma antiscivolo che secondo me è una cosa straordinaria che non ho mai trovato non ho mai visto neanche sugli abbacchiatori neanche su altri svettatoi antiscivolo quindi è molto comoda perché uno dei problemi grossi è lo scivolo di quei svettatoi qua abbiamo il pulsante di sicurezza insieme al grilletto quindi il meccanismo la lama funziona quando schiacci sia il grilletto sia il pulsante di sicurezza molto interessante per il lavoro il motore è brushless led ricarica a tre colori verde quando la batteria è carica arancione quando si sta scaricando rossa quando è scarica e con questo è tutto ragazzi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti